sono giorni che cullo questa bottiglia come fosse un bambino aspettando il momento giusto per berla è un litro e mezzo di radice di paltrinieri un litro e mezzo ritengo essere la misura minima indispensabile per godere pienamente di questa bottiglia soprattutto se si è da soli no scherzi a parte paltrinieri da anni è un marchio di grande affidabilità e di grande godibilità nel mondo dei labruschi soprattutto di quello di sorbara alberto e barbara sono diventati bravissimi nel rifermentare nel rifermentare con la diciamo l'ausilio delle autoclavi oppure ancora più in maniera ancora più difficile rifermentare in bottiglia come in questo caso dove non c'è tecnologia che ti aiuta ma tutta la sensibilità e tutta l'esperienza che hanno maturato in questi anni viviamo tempi difficili non dobbiamo toglierci queste grandi soddisfazioni di aprire una bottiglia di paltrinieri ripeto meglio in mani godrete di più grazie a tutti grazie a tutti